Buongiorno Daedo, ieri è uscito, è stato pubblicato, è stato lanciato a tutti gli utenti lo Spotify Wrapped 2023 che è naturalmente, ormai lo sapete da anni se siete utenti di Spotify, è quella classifica dei vostri gusti dei cantanti che seguite di più, dei dischi che ascoltate di più, dei generi eccetera, ma anche dei podcast naturalmente vi dà anche la classifica dei vostri podcastoni preferiti e fa la stessa cosa all'incontrario con i creatori di contenuti su Spotify e per fargli vedere un po' quali sono le statistiche dell'anno, cosa è successo eccetera, in formato naturalmente sempre molto grazioso io cosa ho scoperto da questo Wrapped che tra l'altro è come ogni anno molto popolare, è stato totalmente popolare ieri che i server sono crashati per un momento i server di Spotify che tutti andavano a vedere il Wrapped e niente, i server non ce la facevano ma di questa piccolezza i dati mi dicono che sono cresciuto di percentuali astronomiche rispetto all'anno scorso, grazie, l'anno scorso ho credo fatto tre mesi, due mesi quindi non ha molto senso vedere la crescita di quest'anno, quest'anno di fatto è il primo anno di questo podcastino ma la cosa frizzante da notare, almeno per me, è che qua fuori, in mezzo a voi, in mezzo a noi, ci sono 20 cristiani 20 persone per cui questo podcastino è il preferito, cioè è quello che ascoltano di più, questo me lo dice Spotify quindi so che 20 di voi nel loro Wrapped avranno podcast più ascoltato e uscirà il mio faccione quindi se siete tra questi 20 fortunati e brave persone che avete questa faccia nel podcast più ascoltato dell'anno ditemelo, mandatemi qualcosa, mandatemi lo screenshot, postatelo da qualche parte, taggatemi oppure scrivetemelo in privato insomma voglio saperlo e se ci tenete vi faccio, divulgherò questa informazione se invece vi vergognate, cosa che naturalmente vi capirei, allora non dirò niente, resterà tutto tra me e voi, capito? una relazione così, nascosta e clandestina ma dopo questa cagata, comunque davvero ringrazio tutti quelli che hanno deciso, hanno scelto di passare un 20 minuti che a volte si allungano fino alla mezz'ora ogni giorno con me e come ogni giorno, se poi ogni giorno magari, insomma come quasi ogni giorno andiamo a iniziare con le notiziole che ho selezionato accuratamente e con affetto e amore per voi, solo per voi oggi Allora, oggi voglio iniziare in modo un po' atipico, nel senso che non è una news questa però è un discorso che si interseca bene con le news perché anche in questo podcast abbiamo parlato spesso di CRA, di Cyber Resilience Act giusto? Quindi ormai se voi siete clienti affezionati di questo prodotto come dovrebbe dirvi il WRAPD insomma, sapete già di cosa sto parlando, il Cyber Resilience Act o Cyber Resiliency Act non ho ancora capito come dirlo comunque, il CRA è quella proposta che si sta discutendo adesso al Parlamento Europeo per migliorare, ecco questo è l'obiettivo migliorare la sicurezza dell'intera supply chain software giusto? Bene, allora vi voglio segnalare con anche un po' di orgoglio un post che è stato pubblicato ieri sul blog di Cloud Native Computing Foundation di CNCF a firma Spark Fabric eh sì, la compagnia, la bellissima azienda dove lavoro naturalmente noi siamo membri di CNCF e di Linux Foundation oltre che di OpenSSF, quindi diciamo che ci teniamo particolarmente il mondo dell'open source e cerchiamo di fare di tutto insomma per sensibilizzare anche in questo campo e quindi un nostro blog post è stato pubblicato sul blog della CNCF e ve lo segnalo perché contiene alcune indicazioni su che cosa potrebbe essere fatto meglio nel CRA appunto e lato vostro, diciamo lato community, cosa si potrebbe fare per provare a migliorare un po', a sensibilizzare su questo approccio quindi questo blog post che trovate appunto su CNCF si intitola The Cyber Resiliency Act and Open Source Concerns e ha appunto un primo paragrafo che si intitola What does the Cyber Resiliency Act involve? quindi spiega un po' che cosa riguarda molto in sintesi il Cyber Resiliency Act verso appunto l'open source e dice il Cyber Resiliency Act è una proposta di regolazioni europee che vuole migliorare la resilienza digitale di infrastrutture critiche attraverso la cooperazione, la miglior cooperazione tra settore pubblico e settore privato introduce l'idea di un consiglio di esperti per migliorare la cyber security e promuovere l'adozione di tecnologie avanzate e cosa si è quindi di sbagliato in questo che è un principio giusto e corretto gli obiettivi sono corretti però c'è un disallineamento tra intenzioni e dinamiche di come sono implementate quindi questi sono i due punti cruciali elencati in questo post sul rapporto CRA Open Source quindi il primo è che il CRA non distingue tra lo sviluppo collaborativo di tecnologie upstream e la loro invece introduzione sul mercato e il secondo è che il CRA rende i maintainer i creatori e le community dei progetti open source responsabili anche per l'uso di questi progetti in modi non previsti ecco non in quelli previsti da chi inizialmente ha creato quel prodotto e quindi alla fine il rischio è che la responsabilità per usi diciamo indiscriminati o in contesti non prevedibili del software ricada su chi quel software l'ha creato o vi ha contribuito upstream che naturalmente sono persone che non hanno visibilità su come poi il software o l'hardware saranno usati in quali contesti e con quali altre problematiche di sicurezza attorno ecco queste sono le cose principali poi dopo vi consiglio di leggere tutto l'articolo non perché l'abbiamo scritto noi ma perché insomma è in sintesi vi fa capire quali sono i punti più preoccupanti riguardo proprio l'open source chiudo soltanto con delle nostre inconclusioni e diciamo è cruciale bilanciare gli effort verso la maggior sicurezza con la natura collaborativa e aperta dell'open source e un aperto e continuo dialogo tra gli stakeholders di questo mercato è essenziale per sviluppare delle policy delle politiche che prendano questi obiettivi quindi questi obiettivi che abbiamo detto in considerazione quando si scrivono e si propongono queste leggi quindi anche voi là fuori voi community magari anche non contributor cosa potete fare per sensibilizzare ancora di più i legislatori e vi ricordo che tante grandi fondazioni tante community anche tante aziende stanno cercando di fare pressione stanno cercando di sensibilizzare i legislatori su questo anche voi potete fare una vostra parte con l'hashtag FixDecra che è un hashtag lanciato dalla Linux Foundation Europe e quindi trovate al link FixDecra su Linux Foundation che naturalmente è un hashtag così simbolico che in realtà racchiude un po' di iniziative che si possono semplicemente prendere e lanciare sui social media che riguardano appunto l'effort della Linux Foundation Europe per andare a cercare di cambiare un po' qualche punto di questa legge quindi se voi cercate FixDecra atterrate su Linux Foundation Europe sul sito web di Linux Foundation Europe trovate un po' di modi per andare sui vostri social network oppure su canali Discord dove poter avere una discussione su questo problema ecco quindi mi raccomando FixDecra e noi se ci saranno aggiornamenti su questo saremo sempre qui a parlarne allora finalmente possiamo quasi mettere una pietra conclusiva ecco possiamo dichiarare la fine della sopopera della serie di Sam Altman e OpenAI prima lascio poi ritorno poi vediamo come sarà composto il board bene adesso abbiamo ufficialmente la nuova board quindi l'annuncio della composizione del nuovo board e del fatto che Sam Altman è ufficialmente tornato a bordo ed è il nuovo vecchio CEO di OpenAI quindi vado su un articolo di The Verge che ci va un po' di riassunto della situazione insomma inizia con questa frase Sam Altman è ufficialmente CEO di OpenAI di nuovo e inoltre per quanto riguarda la composizione del board come già si era speculato Microsoft avrà un posto in questo board però il posto che avrà nel board è di non votante quindi OpenAI cerca di mantenere questa doppia natura di non profit e di invece profit ecco cioè invece di azienda che deve un po' rispondere ai suoi investitori Microsoft ha ricordo sempre il 49% di OpenAI quindi Microsoft avrà questo posto non potrà votare ufficialmente però naturalmente potrà fare ancora più pressioni e soprattutto potrà osservare che non gli si facciano degli scherzetti quindi a sua insaputa quindi adesso tre dei quattro membri iniziali del board che avevano votato per il licenziamento l'allontanamento di Sam Altman se ne sono andati quindi il nuovo board come in realtà avevamo già detto consiste di Brett Taylor, Larry Summers e Adam D'Angelo che è l'unico del vecchio board che rimane per quanto riguarda invece Microsoft The Verge ha chiesto all'azienda chi sarà a prendere il posto nel board però non c'è stata ancora risposta quindi non si sa ancora chi sarà di Microsoft a sedere nel board di OpenAI poi naturalmente questa decisione questa composizione nuova del board e il ritorno di Sam Altman è stato annunciato ufficialmente sul blog di OpenAI e con una lettera interna ai dipendenti si parla anche di Ilia Sutzkever che ricordo era membro del board aveva inizialmente votato per il licenziamento di Altman poi si era pentito dopo che aveva visto l'insurrezione di tutti quasi tutti i dipendenti di OpenAI stessa bene, su Ilia Altman dice che non sederà più nel board ma comunque rimarrà in OpenAI non ce l'ha con lui e quindi troveranno modo di lavorare insieme e di nuovo continuare il rapporto lavorativo poi ci sono, insomma, se volete c'è tutto il memo interno di Sam Altman che vi risparmio comunque lo trovate anche sul blog di OpenAI quindi con questo post intitolato Sam Altman returns as CEO e New Initial Board quindi c'è un messaggio di Sam alla compagnia e poi c'è anche un messaggio di Brett di Brett Taylor quindi un altro membro del board se volete leggere un po' come si rivolge il board ai propri dipendenti ecco questo potrebbe essere il modo inoltre vi segnalo una intervista torno su vi segnalo un'intervista abbastanza strana di The Verge a Sam Altman strana nel senso che The Verge l'ha pubblicata ma di fatto non ci sono risposte non ci sono risposte loro hanno telefonato a Sam Altman a quanto pare c'era anche Miramurati in ascolto in questa conference call e gli hanno fatto varie domande su cosa è successo cosa sta succedendo cosa succederà e le risposte sono sempre state boh non lo so non commento tranne alcune piccole cose ma se volete ve lo dico per esempio perché pensi che sia stato licenziato risposta di The Altman non ho molto da dire domanda perché l'abord ha perso la fiducia in te la risposta ma chiedetelo a loro domanda ma su questi si parlava di misunderstanding cioè non vi siete capiti non vi siete ben cioè non c'era una corretta comunicazione risposta non sono pronto a parlarne adesso perché non sei pronto a parlarne perché c'è un processo in questo processo in realtà c'è un processo di revisione di investimento c'è un'indagine insomma c'è un'indagine indipendente su queste cose all'interno della compagnia quindi adesso non voglio interferire e va bene poi si parla di Ilia Suskever e gli chiedono perché Ilia ha cambiato idea insomma sostanzialmente che cosa l'ha portato a cambiare idea così repentinamente qui risponde Miramurati che dice non lo sappiamo dopodiché qua invece c'è un punto interessante perché gli chiedono cos'è che ti ha portato a tornare sui tuoi passi quindi a tornare su OpenAI e qui Altman dice che sabato mattina alcuni membri del board l'hanno chiamato e gli hanno chiesto di tornare fondamentalmente e lui inizia da detto no adesso devo pensare anche perché mi sento un po' insomma un po' male per quello che è successo sono un po' ferito poi alla fine ci ha pensato un po' e ha detto ok vado e qui è interessante la tempistica perché lui parla di sabato mattina e dice che inizialmente era esitante ma non per molto quindi pare che fondamentalmente abbia deciso subito di ritornare su board quindi a quanto pare sabato già lui sapeva di dover rientrare in OpenAI però se vi ricordate lunedì martedì in quei primi giorni ancora si pensava che Sam Altman dovesse addirittura entrare in Microsoft o fondare una sua compagnia cioè non era ben chiaro e le comunicazioni anche di Microsoft erano cioè pareva che loro non sapessero bene cosa stava succedendo quindi apparentemente invece Altman già sabato sapeva o comunque ipotizzava di rientrare come se ho perché alcuni del board l'avevano chiamato e l'avevano convinto appunto a rientrare quindi questa è abbastanza l'unica cosa degna di nota secondo me che esce da questa intervista dopodiché si parla del fatto che quasi tutti i dipendenti erano ancora con lui e lui è molto contento perché dice non abbiamo perso un singolo dipendente e neanche un singolo cliente gli chiedono anche se vorrebbe ritornare nel board quindi ad avere un posto nel board e lui dice che al momento la cosa non gli interessa stava guardando altre cose sì perché ricordo che se Altman aveva anche un posto nel board precedentemente adesso con la nuova composizione non c'era più in realtà si pensava che lo riprendesse questo posto così come Greg Brockman Greg Brockman che è ritornato come presidente così insieme ad Altman però nessuno dei due attualmente siede nel board però vedremo un po' come si svilupperà e si parla anche del miglioramento della struttura della governance di OpenAI cosa menzionata nel memo di Altman ai dipendenti però al momento non ci sono ulteriori indicazioni dice che adesso insomma se ne parlerà con il board il processo sarà lungo richiederà molto tempo quindi non non se ne può parlare in questo momento c'è anche una domanda sul problemi di sicurezza la sicurezza dello sviluppo di questo nuovo progetto in AI Murati Mira Murati dice che tutto questo casino non ha niente a che vedere con la sicurezza a questo punto domanda su Qstar sul modello Qstar di cui si è parlato questa cosa che potrebbe insomma consistere in un pericolo per l'umanità perché per scoperte troppo avanzate per essere gestite in questo momento ma sfortunatamente Altman non ci dà ulteriori commenti su questo dice che è stato un leak sfortunato che non doveva uscire ma non ha commenti su questo come ultima domanda gli chiedono se ha imparato qualcosa da questa vicenda lui inizialmente gli dice no al momento non ho risposta su questo quindi ha messo giù è finita l'intervista ma ha richiamato Altman subito dopo e ha detto che ha imparato che la compagnia può funzionare anche senza di lui quindi adesso questo lo rende più più confident insomma va bene questo è questo è al momento l'ultimo aggiornamento che abbiamo quindi siamo Altman ufficialmente di nuovo CEO nuovo board insidiato nella company Microsoft con un posto nel board non votante ma sarà finita non lo so vedremo se ci sarà una scena post credit che ci farà aspettare una seconda stagione oh e per chiudere oggi c'è un bel aggiornamento su un tema che abbiamo trattato qua anche abbastanza estensivamente che è il data leak il data breach in Okta vi ricorderete se non vi ricordate andate sul mio canale o sul mio podcast o su dovunque ascoltate questo podcast cercate Okta e vi verranno fuori le puntate di un mese fa due mesi fa insomma degli ultimi mesi sul data breach appunto che ha subito Okta che inizialmente vi ricordo sembrava essere limitato a pochi clienti meno dell'1% dei clienti totali di Okta e se vi ricordate già inizialmente si pensava che fosse un po' piccolino questo numero che fosse destinato ad aumentare ebbene abbiamo la conferma ufficiale che questo numero non è quello è assolutamente sottostimato ci sono praticamente ci sono delle informazioni che riguardano tutti i clienti di Okta insomma da indagini ulteriori di Okta si viene a sapere che tutti i clienti sono in qualche modo colpiti da questo breach sono su The Register vado a leggere questo articolo dice Okta ha ammesso che il numero di clienti colpiti dal breach al suo sistema di supporto cliente è molto superiore a quanto inizialmente stimato vi ricordo brevemente che questo breach è stato causato da una falla nel sistema di ticketing possiamo dire di supporto clienti di Okta che richiede ai clienti quando fanno una segnalazione di un problema ecco di caricare un file har http archive che fondamentalmente contiene tutte le informazioni sulla sessione di un cliente e queste informazioni possono contenere anche dei token insomma delle informazioni che possono poi essere sfruttate da un attaccante per avere accesso ai sistemi quindi probabilmente qualcuno è riuscito ad ottenere l'accesso al customer support system attraverso magari la password di un dipendente Okta dopodiché è riuscito a prendersi i file har e tramite quei file è riuscito poi ad accedere a sistemi che gli hanno consentito di scaricare dati di clienti quindi il vado avanti con l'articolo il chief security officer David Bradbury aveva detto inizialmente che a seconda dell'analisi di questo incidente i file scaricati riguardavano 134 clienti di Okta quindi meno dell'1% del totale ma ieri mattina c'è stato un aggiornamento a questo a questo report che dice che invece i dati scaricati riguardano tutti i clienti di Okta ogni singolo cliente ma aggiunge per il 99.6% dei clienti i dati acceduti sono soltanto il nome completo dell'utente e l'indirizzo email c'è una tabella che fa vedere quali sono fondamentalmente i dati acceduti dati scaricati che riguardano appunto username e email in realtà qualche altra cosa non sembrano esserci informazioni di accesso o password cose così però fondamentalmente questi dati possono essere utilizzati per attacchi di tipo phishing per esempio infatti Bradbury stesso dice non ci sono evidenze che queste informazioni possono essere sfruttate attivamente ma potrebbero comunque essere usate per attacchi di tipo phishing e quindi si incoraggiano tutti i clienti di Okta ad attivare il multifactor authentication anche se questo è già attivo per la grande maggioranza dei clienti comunque tutti dovrebbero attivarlo per mitigare situazioni di questo tipo inoltre c'è qualche dettaglio in più su questa indagine ulteriore che ha portato a capire che i dati acceduti sono molti di più di quanti inizialmente si era capito e quindi dice Okta che dopo analisi addizionali sono riusciti a ricreare manualmente gli step che hanno portato l'attaccante a generare questo report e scaricarsi questi file e hanno trovato che i file generato e scaricato dall'attaccante era molto più grande rispetto a quanto pensavano inizialmente come mai perché hanno fatto uno scarico hanno generato un report togliendo tutti i filtri quindi riuscendo a rimuovere tutti i filtri dal report ecco che hanno generato un file molto più grande perché conteneva tutti i clienti questo è quello che si sa per ora questo è l'ultimo aggiornamento secondo me ci torneremo la serie non è finita tra l'altro è interessante notare che questo report di Okta sul data breach esce lo stesso giorno in cui Okta deve pubblicare i risultati finanziari del terzo trimestre del Q3 del 2023 che peraltro sono buoni nel senso che se voi guardate su Yahoo Finance per esempio c'è una crescita del fatturato di Okta globale adesso ci sono dichiarazioni insomma c'è una crescita solida siamo entusiasti della adozione di Okta Identity Governance e la General Availability di Okta Privileged Access quindi c'è una crescita dei clienti su scala globale il fatturato totale è cresciuto del 21% anno su anno quindi ora è a 584 milioni di dollari e anche le revenue dalle subscription sono cresciute a 569 milioni di dollari e con un incremento del 22% di anno su anno quindi insomma una crescita di Okta nonostante questi problemi di security che sono state insomma annunciate e divulgate lo stesso giorno in cui deve uscire questo report non so ho trovato curioso questa cosa qua magari non c'è ancora correlazione però insomma poi magari è semplicemente una coincidenza e abbiamo finito grazie per avermi seguito anche oggi io vi do appuntamento al prossimo episodio che non sarà domani perché domani ho un impegno e non ci posso essere grazie di nuovo a tutti quelli che mi hanno fatto crescere in classifica sul ottimo Spotify wrap però insomma crescere dei numeri mi interessa poco mi interessa di più invece fare qualcosa di interessante e utile per me e per chi mi ascolta dopo questa cagata finale vi posso salutare e davvero appuntamento alla prossima puntatona ciao ciao